A Cosenza dovranno attendere ancora un po' prima di riuscire a sbancare Reggio Calabria. Il granillo resta tabù per i lupi, anche l'ultimo tentativo va a vuoto. Il derby con la regina si conferma indigesto per i colori rosso-blu, almeno in riva allo stretto, dove il Cosenza non vince ormai da 57 anni una vita. E siccome certe tradizioni vanno rispettate, anche gli uomini di Roselli si adeguano e alla fine si portano a casa un punticino che per quanto visto in campo è davvero tanta roba. Sì perché lo 0-0 maturato al granillo è il massimo che questo Cosenza potesse pretendere, visto l'atteggiamento forse troppo remissivo. E pensare che alla vigilia questo derby incuteva un certo timore in casa Maranto. Sarà perché il Cosenza ha esperienze e qualità da vendere e proprio per questo punta senza mezzi termini alla Serie B. Eppure, al cospetto della regina di Zeman, fatica a reggerne il ritmo e si chiude a Riccio, come una provinciale qualunque. Merito anche di una regina solida, aggressiva e che anche stavolta gioca a fare la partita, nonostante il Cosenza, in avvio, provi subito a spaventarla con questo colpo di testa di Statella. Resterà l'unico vero acuto rosso-blu nel primo tempo. Non che la regina crei molto di più in questa fase, ma la squadra di Zeman dà tuttavia l'impressione di volerci provare con maggiore convinzione costringendo i lupi a rintanarsi per lunghi tratti in area di rigore. In sintesi, il Cosenza agisce di rimessa e spiora il gol solo grazie a questo colpo di testa di Kosnic, che rischia l'autorete. Molto più ghiotte, invece, la palla-gol che capita poco dopo sulla testa di Coralli, che da buona posizione mette i brividi ai 300 tifosi del Cosenza giunti al granillo. Nella ripresa, la regina prova ad alzare ulteriormente il ritmo, sorretta da un porcino devastante. Del Cosenza, invece, non c'è traccia. Il pallino del gioco è sempre della regina, che all'appuntamento si presenta con l'ormai consolidata formazione base e anche stavolta la squadra risponde presente alla voce prestazione, nonostante un De Francesco sottotono. Si gioca praticamente soltanto nella metà campo ospite, il Cosenza, è in apnea e alle corde, ma resiste, anche perché la regina produce tanto, ma conclude oggettivamente poco. È uno dei limiti di questa squadra, che strappa comunque gli applausi convinti di un granillo, che dimostra di apprezzare la voglia matta di questa regina, che al minuto 85 avrebbe anche l'opportunità di prendersi l'intero bottino con Gianola, che da posizione favorevole spedisce sul fondo un pallone che sembrava destinato in fondo al sacco. Lo scampato pericolo mette in guardia il Cosenza, che sul finale rimette il naso fuori, e in pieno recupero gli amaranto rischiano addirittura la beffa su questo colpo di testa di caccetta, che trova la pronta risposta di Sala. È l'ultima emozione di un derby, che conferma la crescita della regina al suo quinto risultato utile consecutivo, e ridimensiona il Cosenza di Roselli, ancora troppo timido, lontano da casa, e per puntare alla Serie B, vincere al Marulla potrebbe non bastare.